Non ho perso per nessuna ragione il fatto di essere qua, ma sono straordinari, io li seguo sempre, in facebook naturalmente, e li incoraggio più che posso insomma, perché mi sento veramente partecipata di questa, siete grandi ragazzi, non ce la farei io, prendo anche le scolte, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.